L'ente parco regionale del Taburno Camposauro prosegue nel percorso per la candidatura UNESCO dell'importante area protetta. Intanto cresce l'attenzione per il turismo escursionistico e sembra aumentare sempre più l'interesse verso le aree interne. A confermarlo il presidente Costantino Caturano, che ribadisce l'impegno a fare rete per promuovere il territorio e farlo conoscere ai visitatori. Sono impegnati tutti, comuni, associazioni, comunità montana, regione campana, insomma siamo tutti andando nella stessa direzione con il supporto tecnico-scientifico dell'Università degli Studi del Sannio. Ci stiamo avviando alla fase più importante che si spera ci possa dare questo importante riconoscimento ed inserirci nel circuito UNESCO che non ha bisogno di presentazioni. E per l'estate l'ente è pronto ad accogliere i turisti che hanno deciso di trascorrere le vacanze nel parco regionale del Taburno Camposauro. Quest'estate già abbiamo in previsione un aumento di turisti che soggiorneranno anche qui nei comuni, nei splendidi borghi dei comuni che fanno parte dell'area protetta e che potranno visitare i luoghi, le bellezze del parco del Taburno Camposauro ma anche fermarsi alle varie feste che verranno organizzate e che avranno anche al centro le eccellenze erogastronomiche presenti sul Taburno. Quindi una rete molto ma molto in sinergia che penso che possa dare una bella offerta turistica.